veramente importanti al loro interno e tutte le academy, i team gemelli dei team dell'LEC che stanno aspettando lì ci sono i primi seed delle regioni maggiori, ci sono gli LDLC, ci sono i Campus Party Sparks che ricordiamo avendo vinto il PG Nationals e quindi essendo il primo seed italiano si sono qualificati direttamente nella fase successiva, non hanno neanche dovuto giocare il play-in non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora, perché se già stiamo vedendo un buon livello di gioco in questa fase figurati nella fase successiva dove questa era la fase di play-in, questa era la fase di scrematura, la fase di riscaldamento già, dopo ci saranno le botte vere e proprie con tutti i team che tireranno fuori il loro meglio per procedere nella fase finale del torneo con l'eliminazione diretta, quello sarà divertente perché voglio vedere questi team su delle serie prolungate delle serie in cui effettivamente mettono tutto in prima linea e devono dimostrare le loro strategie devono presentare le loro carte, qual è la tua giocata, che cosa hai intenzione di fare effettivamente devi rivelarlo ora ci sta la patch sarà comunque la 9.17 quindi purtroppo i team che escono vittoriosi dal play-in hanno il debuff di aver rivelato già le loro strategie vittoriose come cosina? Non lo puoi sapere Oddio, abbiamo appunto visto questo micro meta che si è andato a creare all'interno del play-in stesso considerando che gli Asus Rogue Elite si stanno giocando la sopravvivenza all'interno del torneo di sicuro non mi aspetto esclusione di colpi da parte loro forse da parte dei big ci può essere un gioco più conservativo consci del fatto di aver già alloccato la loro presenza nella fase successiva ma non possiamo veramente saperlo finché non entriamo in draft draft che sarò sincero stanno diventando sempre più interessanti perché la priorità su Thresh sempre crescente all'interno di questo torneo mi sta intrigando e non poco giustamente Thresh essendo uno di quei campioni che non solo dà sicurezza al proprio carry ma dà anche un modo per ingaggiare direttamente gli avversari e trovarli e deposizionarli è quello il suo punto di forza non solo ti può zonare totalmente dalla zona del barone Nashor con una semplice box o con la semplice minaccia di un uncino ma entriamo in draft e scopriamo che cosa andranno a giocare questi due team perché signore e signori questa è l'ultima draft di stasera e subito i due ad carry principali del torneo sono fuori Kaisa e Xayah bannate Kaisa e Xayah iniziavano a prendere davvero troppe attenzioni in competitivo Xayah per prima ma Kaisa subito a seguire a ruota e trovo interessante che siano stati rimossi entrambi perché questo va comunque ad aprire nuove possibilità per i tiratori nuove possibilità che potrebbero essere Ash e Damkench che potrebbero tranquillamente essere volendo anche un Ezreal Yumi rimossa red side stavolta mentre i big vanno a rimuovere Jarvan Goshojin è finalmente riuscito a connettersi considerato quello che è stato precedentemente purtroppo il problema di connessione degli Asus Rogue Elite e quello... purtroppo ha pesato un pochino però vedremo come peserà adesso anche per il ban perso ma tra l'altro ha pesato un pochino relativamente erano contro gli XL gli XL hanno fatto veramente il play-in perfetto col senno di poi ovviamente gli XL sì vabbè è la partita persa a prescindere dalla dichiaria che avrebbe giocato Lucian bannato ok Karsi a questo punto che cosa sta mettendo in comfort? Dristana sembrerebbe di sì Magali rimossa Sylas potenziale primo pick Rakan potenziale primo pick Gragas non ce lo vedrei come primo pick perché puoi rispondere con Sylas salvo il power trade Timo primo pick anche quello è molto interessante purtroppo non è la 9.18 quindi ancora il buff che porterà Timo ufficialmente in competitivo ad essere uno dei pick più contesi non è ancora arrivato ma arriva Atrox giustamente vai per il pick da top lane neutro pick di Aurelion Sol dall'altro lato spam di F ragazzi manca a tutti Aurelion Sol purtroppo da quando la Riot ha cancellato quel campione dal gioco per molti ha lasciato un vuoto beh dai c'è ancora nella modalità principale di League of Legends a TFT è vero è vero è vero lì è ancora un campione effettivamente over su Ezreal potrebbe essere una scelta e infatti viene loccato dicevamo che con il ban di Xayah Redside e vedendo il ban di Lucian puoi andare di Ezreal Rakan abilitando il roaming di Rakan giustamente sarebbe anche un'ottima scelta ma a questo punto vorrebbe dire lasciare Sylas e Gragas dall'altro lato quello è Rumble ok ok aspetta perché qui siamo un attimo in una zona strana abbiamo Rumble e Ezreal come power trade per Atrox con Gragas disponibile con Sylas disponibile che adesso può andare a prendere il livellatore missilistico e portarselo a casa e infatti se non loccano Sylas e Gragas sarebbe preoccupante da parte dei big Sindra puoi anche andare al posto di Gragas e mettere Sylas in giungla ok va benissimo però Sylas prendetelo ragazzi è veramente forte Sylas c'è Rumble ti rubi il livellatore missilistico è bello il livellatore missilistico non puoi rubare la suprema di Ezreal non è male considerato che hai soltanto scaling up della tua non preferiresti deliziosi cereali il livellatore missilistico della tua? certo ovviamente ecco però dai ragazzi dai uh Pyke ok viene loccato Pyke ok stiamo per assistere a qualcosa di molto interessante cambia totalmente le carte in gioco questa addirittura Z va bene contro Syndra Z è ottimo contro Syndra in realtà quindi mi piacerebbe vedere Z mid Yasuo va bene anche lui in un certo senso il muro del vento può intercettare il potere senza limiti preferirei Z da parte di Zoyer vedremo sarà su Trash ok non rivela niente ok 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 Pyke contro Trash è la bot l'inverdogna la dei supporti che lanciano cose alle persone adesso bando da parte degli Asus che senza esclusione di colpi sì ma la loro draft è davvero personale che per carità i big dall'altro lato Syndra Pyke Aatrox ha la faccia dell'aggressività la cosa bella è vedere Pyke di fianco a Syndra perché se a questo punto tu porti Pyke a permettere a Syndra di snowballare diventa enorme Sylas ovviamente è ragionevolmente bannato a questo punto banneresti anche Gragas visto che poi i pick ce l'hanno gli Asus Rogue Elite vai a bannare Skarner Syndra è immobile banna Skarner va bene giustamente non vuoi che dei campioni così dipendenti dalle loro fasi di corsia debbano pagare la tassa della fascia d'argento vivo chiaramente assolutamente va bene così banni Skarner la risposta degli Asus a questo punto una volta rimosso Sylas potrebbe essere continuare a insistere sul meta e rimuovere magari anche Tristana Olaf perchè? si ha no 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 seriamente perchè? non scrivono niente con i bann quindi almeno quell'opzione viene esclusa dopo il bann di Skarner il bann di Olaf fa presagire Sejuani ma può essere rimossa da parte dei big a questo punto e la cosa è hai voluto scambiare un bann? banno Olaf così gli avversari bannano Sejuani ma io tanto non volevo giocarla e gli ho fatto sprecare un ban sembra che sia un Draven per la corsia inferiore degli Asus no c'è Ezreal oh no infatti aspetta compito Gragas Gragas è decisamente più sensato ok si erano dimenticati di aver selezionato già la di Kerry ma no voglio dire puoi tranquillamente giocare Ezreal al full AP mid con punizione ovviamente il libro di incantesimi Gragas allocato con la Max quindi andrà su uno dei meta jungler dei pochi jungler rimasti perchè Jarvan è andato Skarner Sejuani è andati Olaf Silas è andati un over su Nocturne che a questo punto diventa una scelta interessante perchè l'accesso alla backline nemica con Nocturne e soprattutto la miopia ad area per abilitare Pyke può essere qualcosa di molto divertente quella è Syndra bot con Pyke ok i big vanno go big or go home e lì sin in giungla ok che cos'è quella draft questa draft è molto interessante ecco che cos'è bello vanno a cambiare totalmente il ritmo fino ad ora abbiamo sempre visto lo stesso meta dell'Europa Masters loro dicono benissimo adesso giochiamo qualcosa di totalmente diverso giusto per confondere le idee le stanno confondendo veramente tanto abbiamo lì Synd in giungla Atrox top le Blank Mid e Syndra Pyke bot quella è una composizione da snowball allucinante se la partita dei big non si conclude al venticinquesimo minuto il loro Nexus auto implode vorrei farlo infatti stavo per dire è una partita snowball unbo i lati nel senso che i big o snowball se stessi o snowball gli avversari sì anche perché aggiungendo anche corchi stai dando un fulcro di scaling da non ritorno a questi Asus Rogue mamma mia contro le Blank è una classica lane buona è una buona lane mangia magia esatto sopravvivo in faccia non puoi fare niente proverai a uccidermi non ci riuscirai e io continuerò a tornare e tu dovrai tornare in base perché sei senza mana Syndra Pike a me risuonano in testa le parole di Perks con il mi annoia giocare Syndra Bot in competitivo perché è un auto win vedremo seccarsi qui dalla sua che parentesi è uno dei playmaker se non il principale cova uova per questi big sì riuscirà ad essere all'altezza riuscirà a portare a casa quelle vittorie così importanti che comunque più che condanneranno gli Asus più che effettivamente portare i big alla vittoria l'abbiamo detto che i big si sarebbero sentiti sollevati dalla necessità di dare il 100% e che quindi sono sereni ok i big sono già qualificati questa è proprio la classica draft da già qualificati è la draft full mid game che o vinciamo e ci divertiamo nel vincere o perdiamo ma comunque ci facciamo un sacco di risate e non fa differenza dall'altro lato invece Rumble Corky quella è una combinazione che è un po' che non si vedeva in competitivo doppio livellatore missilistico tra virgolette uno è il pacco di Corky uno è il livellatore missilistico di Rumble bellissimo da vedere ha un impatto enorme in teamfight fai proprio a tagliare la strada le vie di fuga degli avversari bene possiamo fuggire di qua no c'è il livellatore missilistico bene fuggire di qua no da un controllo degli obiettivi pazzesco anche perché tu puoi tranquillamente utilizzare una delle due abilità per sbarrare le vie di fuga e l'altra per danneggiare gli avversari all'interno della zona di combattimento vanno ad essere particolarmente preoccupanti per l'accesso alla backline Sindra per quanto voglia voler giocare sicuro se viene colta in castagna dalla distanza su un livellatore missilistico e si trova poi nello spostamento un Corky che la va a falciare con il suo pacco diventa complicato da gestire Ezreal è una lane indipendente va ad abilitare il roaming di Thresh cosa che per quanto non vedo particolarmente efficace contro le Blank può magari forzare delle risorse difensive può magari forzare le Blank anche solo a sprecare un flash cosa che in early game ti forza a mantenere la distorsione come strumento difensivo cosa che va a limitare tantissimo il tuo wave clear è la capacità di trade nei confronti di Corky Corky è un ottimo mid laner contro il danno magico nonostante tutti possano pensare ma è un tiratore contro un assassino come fa a non perdere la corsia con la mangia magia molto semplicemente un oggetto difensivo che permette a Corky di scalare nella fase centrale di partita ottenere la virtù della triade ma signore e signori entriamo sulla banda degli evocatori per quello che è l'ultimo match di questa serata tra Big e Asus Rogue Elite eccoci qua eccoci qua ladies and gentlemen ultima partita della giornata in caso di vittoria dei Big gli Asus vanno a casa e i Rogue sono qualificati in caso di vittoria degli Asus allora gli Asus vanno avanti e i Rogue sono squalificati quindi se ti fate Rogue hashtag BAG win se ti fate Asus hashtag Asus win e il tuo hashtag a chi va? con queste composizioni Asus penso che la loro composizione sia generalmente più solida e che i Big abbiano preso una scommessa early game così folle gli Sinleblank Syndra bot Pyke Aatrox è proprio la follia pura vediamo multi volteggiare intorno alla Syndra guardiana stellare mentre Labroff in corsia inferiore con il suo Pyke tasteless da subito con la spazzata ma si prende un enorme danno di tradeback non sottovalutare mai in corsia il danno di una Syndra anche Pyke con la sua Q comunque non è che faccia poco danno considerato che può fare un autoattacco trade immediato e andarsene via nel frattempo Zasi e Zoyer continuano a scambiare semplicemente in corsia è una lane tranquilla per ora trova il livello 2 Zasi Zoyer lo ha già dalla sua biscotti e pozione della corruzione quindi proprio è una bro lane si che cosa deve succedere continuano semplicemente ad arrasarsi sanno perfettamente che a meno che non ci siano gravi errori meccanici è veramente difficile trovare una kill l'unico modo che può essere sbilanciato in questa corsia è la presenza del genre Lissin che passa e trova una full combo su Zoyer Gragas che passa e trova uno stun nei confronti di Zasi e non aveva la distorsione per fuggire che è tendenzialmente la stessa cosa di avere la Valkyria per fuggire fino al livello 6 esattamente e quindi è così difficile cancare in mid lane Zasi va aggressivo trova la catena etere ha trovato anche l'immobilizzamento buono il trade ma il mana inizia a decadere e soprattutto Zoyer della sua con il ramo dell'ispirazione come principale ha accesso ai biscotti che adesso sono un ottimo strumento per andare a gestire la corsia specialmente contro pick così aggressivi Donards aggredisce la sentinella di Quarzo ma Colamax è lì Donards ha sprecato i suoi cooldown Colamax infatti subito va a contestare spottato dal germoglio di divinazione Teistress arriva questo poi è una posizione pericolosa per Donards per quanto voglia minacciare Labrof U-Buff arriva anche Labrof andranno per il tentativo di all-in lo smite va a segno ed è nelle mani di Donards questo è gravissimo per Colamax lo smite di Colamax lascia il guardiano di Quarzo a 2 HP questo ha fatto male 2 HP oh no basta ne avanzano 2 HP beh sì a dare il blue buff a Donards sì e questo significa che l'invasione spostatasi in avanti in ottica della priorità ottenuta in corsia inferiore grazie a Karsi e Labrof si porta a casa un potenziamento così importante per Gragas nelle fasi iniziali e adesso porterà Lissin sul lato superiore di mappa perché già ha preso Largo Granchio del lato inferiore e a prendere anche quel lato superiore vuol dire negare ulteriori risorse di esperienza a quel Gragas tanto hai il vantaggio di poter combattere con l'esperienza già ottenuta se prendi anche Largo Granchio hai il 4 e quindi puoi cominciare a pensare di aggredire quel Gragas che è in top lane Predatore attivato White Knight passibile di aggressione arriva lo stun viene però rallentato e bloccato dalla catena infernale Darkrai ottimo controingaggio intanto l'Intestis però non trova la sferzata su Labrof soltanto è lockdown e Goshujin è un Ezra l'in early game fai pochissimo prendi stack di kleptomanzia Donards Liscio la lisciata va proprio brutalmente si anche perché Zoyer non aveva visione su di lui c'era un lume al centro della corsia lo vedevi di quel Corki e Corki non vedeva te potevi tranquillamente puntare a Corki invece che forse Corki andrà lì tra un paio di secondi nel frattempo in top lane White Knight e Darkrai si picchiano pesantemente tra di loro è una di quelle lane in cui non è come la mid lane che è una bro lane e farmano entrambi la vogliono picchiarsi entrambi perché basta un errore meccanico e vieni pesantemente punito Donards Colamax sono entrambi lì no ok Zazi ha utilizzato la distorsione sui minion Zoyer lancia un'onda sonica ma Colamax fa capolino e blocca l'azione beh riceve un'onda sonica Zoyer blocca di faccia ah ok in effetti detta così ha più senso si no ok perdona Darkrai aggressivo su White Knight basso in salute ha tutte le sue spell disponibili a breve quindi potrebbe cercare in seguimento decide di non farlo sono i tre in mid lane pur di cercare di tenere sotto controllo Zoyer si ma Zoyer sta comunque farmando sotto torre e non sta andando neanche per la mangia magia tanto è sicuro in questa corsia non l'hanno neanche obbligato a utilizzare il flash quelle sono attenzioni che comunque verranno punite far perdere tempo all'isyn che comunque sta staccando di 11 minion Gragas ok ha negato comunque largo granchio ha negato il blue buff si no e soprattutto c'è una priorità molto marcata da parte delle lane data anche dalla presenza di sindra in corsia inferiore che sappiamo essere particolarmente abusiva Zoyer questa come come pausa abbiamo una pausa immediatamente e a breve vi aggiorneremo sui motivi della pausa stessa niente c'è stato un piccolo problema con la era quel missile era semplicemente quel missile lo capisco e sto battendo le mani sul missile assolutamente ma vabbè c'è stato un piccolo problema in corsia centrale e adesso piccola pausa per noi e stavo dicendo che è una partita caotica finora ok le draft per carità lasciavano intendere che sarebbe stata una partita di questo tipo però così caotica ma non questo tipo di caos c'è caos e caos c'è quel caos legato all'aggressione in cui continua ad esserci un'aggressione da parte di entrambi i team che cercano di trovare vantaggio eccoci qua di nuovo in partita ecco dicevo c'è il caos aggressivo e c'è il caos in cui casuale c'è il caos proprio per il piacere del caos stesso esattamente quindi questo è uno di quelli l'isin comunque sta giocando veramente un early game perfetto al di là di tutto è riuscito a dare attenzione alle corsie e a staccare così tanto colamax dalla distanza car si riesce a far connettere il disperdi debole su goshujin che cerca qualche stacca di kleptomazia pione ah fa segno su tasteless però fine a se stesso il cooldown più che altro lo sprecato la scossa di assestamento distorsione doppia da parte di sasi per mantenere la priorità alta in corso centrale zoir qua investe un po' di risorse per pushare l'ondata di leblanc darkry torna sul lato superiore della mappa si era concesso una piccola passeggiata una scampagnata per andare a piazzare un po' di visione in giro leblanc sta andando a raccogliere il potenziamento blu ricordiamo inoltre che sul potenziamento blu degli asus i big hanno il cooldown quindi possono volendo andarlo a contestare l'isina si sta spostando sul quadrante superiore sembra addirittura voglia cercare il gank della corsia è una possibilità ma non è così semplice perché comunque Rumble dotato di Suprema dotato di Flash non è che sia proprio facile da credere Goshugin costretta l'Arkenshift difensivo a causa di un ottimo arpino nella parte di Labro Karshi dotato di livello 6 ora è molto più minacciosa a confronto che un pochi istanti fa arriva l'ingaggio predatore no niente predatore da parte di Cola Max l'uncino va a vuoto Karshi qua c'è il Callolin trova lo stun su tre persone potrebbe essere una kill ai danni di Goshugin infatti è primo sangue quando un Gragas a livello 5 ganka una Syndra a livello 6 muore Ezreal no di solito in questo caso purtroppo in coscienza totale da parte di Goshugin e Tasteless non avevano gli strumenti per scambiare stai giocando contro un mago quel mago ha la Suprema a disposizione perché Pyke è andato in roaming e il mago è rimasto a farmare da solo aveva il vantaggio in esperienza Syndra l'hai sottovalutato ti sei preso un potere senza limiti nei denti e non hai l'assicurazione odontoiatrica a coprirti il fatto è che sono corsi dietro a quella Syndra in fila indiana proprio ragazzi ragazzi Syndra bot fa male Syndra bot fa male ok ma non puoi pensare di affrontarla con la speranza che non colpirà lo stun specialmente se ti metti in fila indiana già Zoyer va a prendere il potenziamento blu addirittura utilizza il pacco pur di conquistarlo quello è un utilizzo alquanto singolare della Valkyria potenziata sto per vedere il reset di quel blu buff che avrebbe fatto troppo male no 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 può succedere può succedere ricordatelo Donards nel frattempo sfrutta la priorità di Corsia specialmente adesso che Carsi ha il vantaggio in statistiche offensive grazie anche alla penetrazione magica e sarà Drago della Montagna per loro un team che non vanta un tiratore vero e proprio quindi povero in DPS e che quindi avrà problemi a conquistare gli obiettivi epici con un Drago della Montagna ci va a nozze possibile pressione da parte di Graga sul lato superiore di Mappa considerata la visione che hanno gli Asus Rogue Elite sulla top lane e sul fiume Widenight pronto a ingaggiare su Darkrai manca la sua prima Q trova il secondo knock-up ma la catena infernale va a vuoto arriva Colamax arriva Donards arriva Donards è quello il pericolo vero e proprio Colamax adesso calciato va a mitigare il danno in entrata arriva l'immigliatore missilistico per proteggere Colamax bello il flash di Widenight per cercare il seguimento su Colamax Zazia arriva con un timing perfetto nel frattempo i bot lane Syndra cancella dalla faccia della terra Tasteless vanno al seguimento Onda Sonic e colpo risonante su Darkrai vorrebbero il dive ma Zazia deve lanciarsi ora se no capisca di morire cadrà alla fine per mano di Rumble il suo lanciafiamme è stato un dive disordinato sporco disordinato che però porta comunque una kill in mano alle blanche in cambio di una kill in mano a Rumble considerando che Rumble adesso dona 15 secondi di libertà in top lane a Widenight quindi saranno placature quindi saranno minion esperienza e oro che andrai a perdere lo scambio va bene il fatto che le Blanca abbia preso la kill anche su Rumble dopo quella trovata precedentemente nei confronti del povero Colamax va benissimo attivo di Erpione a partire trova lockdown su Zoir arriva però la lanterna e questo va a cancellare ogni possibilità offensiva Tasteless sta riuscendo vediamo intanto come è stato cancellato quel poveretto al di sotto della sua torre immagino full combo di Syndra una singola sfera oscura è giù arriva bella schivata la seconda sfera lo stordimento potere senza limiti e arriva un'altra sfera oscura ha semplicemente flashato e poi ha provato l'arpione contro una Syndra che poteva semplicemente tirargli una cu in faccia e l'ha fatto perché ha detto è immobile a lanciare la sua cu poi è carinissimo vedere tutti quei multi comparire sul suolo è mega inquietante il fatto che si chiami multi ma perché? non lo so perché ce ne sono tanti lo so ma ha la faccina che è strana mi sono comprato anche il peluccio io di multi davvero? si è bellissimo esiste? è sul merch store eh ma ce ne sono troppe cose sul merch store purtroppo le sto comprando tutte eh carzi in corsia superiore adesso che comunque sulla corsia inferiore è già marcata la priorità e il drago l'hai portato a casa perché non andare in rotazione quella corsia è forte e può permettere all'ISIN di avere accesso gratuito al messaggero della landa e infatti l'ISIN è lì giustamente vai a ottenere anche quell'obiettivo per snobollare tutta la mappa 2000 gol di vantaggio sono gustosi ma come sarebbe meglio di 2000 gol di vantaggio? 2000 gol di vantaggio è un messaggero della landa per ora e poi diventeranno 3000 gol di vantaggio comunque 2 miliardi è la risposta non so però car si in corsia superiore mentre Labrov va a rimuovere visione nella trifronda tasteless è lì ma l'uncino è ampiamente largo anche il colpo mistico è largo e continua a ballare Labrov intorno alle screenshot avversarie la composizione dei big voleva puntare sullo snowball e stanno abbastanza snowballando adesso considerate le risorse già ottenute Labrov adesso costretto al dash difensivo Colamax ha usato il suo predatore per minacciare la top lane e non è servito nemmeno troppo per disingaggiare Leblanc siede su un 2-1-0 taglia sulla sua testa il farm è alla pari con Corky a breve andrà a completare l'eco di Luden e contro un Corky che comunque ha voluto saltare lo step della mangiamagia avere quel potere magico può fare tanto vedremo la sedia in top lane impossibile contestare adesso che c'è anche Donards sarà primo mattone e pure messaggero ma ti sei davvero? no in realtà potevi tranquillamente prendere primo mattone e basta ma così lo conquisti a colpo sicuro proprio stonk ok quello era decisamente stonk comunque Corky va a rimuovere un'intera ondata con due abilità e questo ti fa capire che enorme priorità quella Syndra stia riuscendo a mantenere Ezreal non può rispondere in nessun modo questo è grave perché con Ezreal che non riesce a rispondere tu stai anche oh è riuscito a prenderlo Zoid adesso arriva in lockdown grazie alla Caterina e Leblanc Donards però subisce l'exhaust di Zoid salterà via grazie alla Valkyria cercherà in seguimento Donards arriva uno con ultimo connetto vai la vanterna di Tasteless non ci ha creduto abbastanza bisogna crederci nel cuore delle carte ma no in qualsiasi cosa basta che premi di nuovo quella Q Tasteless adesso in corsia centrale dopo aver salvato il proprio mid laner permette a Goshojin di avere una fase di farm tranquilla Goshojin per adesso siede sul nulla ha una mana moon che deve accumulare stack è una fulgore che non può minimamente competere con tutta la penetrazione magica che breve Karsy andrà ad accumulare adesso spostamento verso questo drago infernale estremamente importante per la team comp degli Asus considerato con il Gragas e Ezreal che andrà a accumulare una marea di risorse più va avanti la partita trasporta partita vogliono cercare il fight ma è già morto il drago infernale ora all'inseguimento i big arriva subito l'arpione tentativo di stundicarsi va a segno no purtroppo Zasi cerca il lockdown anche lui con la catena ma nulla da fare tutti gli Asus sono in vita e hanno portato dalla loro una risorsa importantissima Donards non ci sta credendo abbastanza in questo Lee Sin anche l'onda sonica che cercava il furto del drago non è arrivata in tempo potevi cercare molto di più potevi ingaggiare prima potevi forzare una schermaglia e le risorse per farlo trovo il lockdown ai danni di Darkrai si era lanciato in avanti Donards pronto col calcio del dragone ma non era disponibile Whitehead è trovato fuori posizione è morto è morto è morto è ovviamente vivo è vivo te l'ho detto che era vivo corsia inferiore Syndra trova un'altra torre nel frattempo e Zasi si riporta in corsia centrale Atrox è veramente tankoso perché il grosso del danno magico degli Asus Rogue Elite attualmente è danno magico dalla Toplin danno magico dalla Jungle danno magico dalla corsia centrale e Ezreal considerato che ha soltanto una Manamune è principalmente danno magico di Suprema e W i calzari di Mercurio e la Mangia Magia basta ne avanzano già per adesso Ezreal deve solo continuare a farmare ha bisogno di quegli oggetti nonostante la cleptomanzia è sotto di 1700 gold nei confronti bottom laner nemico e questo ti fa capire quanto opprimente Syndra sia allo stato attuale non solo anche le placature conquistate da parte di Syndra e Pyke volta dopo volta che sia in botlane che sia in top lane gli spostamenti hanno portato i big a ottenere tante risorse in oro che hanno creato quell'enorme differenziale tra i due dual laner abbiamo Colamax che cerca di conquistare il si è aggressivo su Colamax il Barz è enorme non ha via di scampo perché arriva Pyke a trovare l'esecuzione Labrov con la morte dagli abissi riesce a condividere loro con le blank e quello è grave perché è una singola uccisione che ne vale tre Labrov adesso è lì sotto torre con il demolire riesce anche ad aiutare considerevolmente gli alleati nella conquista della struttura arriva l'esecuzione subito tenta l'ingaggio con lo stun ma nulla da fare bella l'esecuzione ovviamente sei contro Ezreal quindi lo spostamento arcano non ti permette il lockdown ma l'esecuzione era molto bene eseguita Donalds va a rimuovere i lumi di controllo nemici all'interno della loro metacampo mentre Zasi adesso va ad insistere sulla torre interna in corsia inferiore Big in dominazione totale Labrov arrasato quasi da Goshujin che manca purtroppo gli skillshot gli skillshot gli skillshot su Pyke occhio a Zoyer Stunnato arriva sul fianco l'apro cerca lo stun arriva l'arpione per un soffio non va a segno ottimo flash da parte di Zoyer bravo bravo anche perché con la connessione del disperdi il debole da parte di Carsi che sta facendo un lavoro splendido confermandosi uno dei principali fautori della vittoria di questa squadra dei Big potevano cercare il lockdown le risorse però non c'erano non erano lì in tempo Donuts il calcio del dragone Donuts purtroppo non trova il posizionamento corretto con il balzo sul lume alla fine i Big vogliono solo chiudere sulla struttura si rendono conto che devono premere sull'acceleratore sono a 18 minuti e più vanno avanti e più diventa difficile gestire la partita per quanto voi vedete 6.000 gold di vantaggio sul tabellone quei 6.000 gold possono essere sbilanciati molto facilmente perché sono tutti i danni burst da parte di Syndra e le Blank ma la domanda è anche stavolta chi dovrebbe impedire a Syndra di burstare la backline degli Asus o alle Blank beh il trash può fare veramente tanto con il suo scudo queste sono composizioni contro le quali io vorrei tanto vedere hypercarry più Tamkench Tamkench ti serve il punto è che hai dovuto dichiarare in prima rotazione la tua bottom lane e lì i big si sono adattati molto bene giustamente se puoi giocare un gioco aggressivo sfruttalo Cog and Frog non è un gioco aggressivo no 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 per gli Asus avrei voluto vedere Cog and Frog si se vuoi giocare una lane phase passiva si in bottom lane casi trovo lo sto su due persone Leolin su Tasteless che flasha dicevi di trash che può impedire beh ha impedito il barso su Ezreal perché è morto lui al suo posto ha tirato l'attenzione su se stesso vedi questo è fare aggro come un buon tank ah interessante comunque comunque al di là di tutto Cog and Frog ti avrebbe permesso anche di temizzare sulla speranza perduta il che questo di un ingaggio a parte di Lavro carci aggredito dalla ulti dicevi stordito adesso Ezreal riesce comunque portarsi in zona franca Zoyrin segue Donards Zazzi dal predatore di Colamax non c'è nessun output purtroppo e quindi niente da fare per gli Asos dicevo speranza perduta su Cogmo contro una lane da danno magico contro le Blanc è ottima Colamax stunnato si lancia in avanti Labrom subito tenta l'arpione lo trovano e così anche la vita del povero Colamax e attenzione anche White Knight tasteless danno disgustoso da parte di Big livellatore vestidistico che costringe al flash difensivo Donards nel predempo White Knight guarda quanto si cura per quanto provi a fare l'impossibile Zoire Goshugin non è sufficiente un'altra suprema di Syndra va a segno White Knight si è curato di 500 HP con un singolo autoattacco Zazzi flash attraverso il muro e completa l'ace dei Big questo porta la partita a prendere una brutta piega per gli Asus Rock Elite ora sono 10.000 gol di vantaggio diventa sempre più difficile riuscire a ritornare in partita ok la composizione che dovevano snobollare e non fare altro ha snobollato dovevi solo stallare dovevi letteralmente solo stallare ma purtroppo non sei riuscito a mitigare in nessun modo l'abnorme aggressività avversaria sono scelte in questo caso no penso che siano stati i big bravi a non lasciare scelte agli Asus hai puntato a un Iceborne Down contro una team comp dotata di due maghi da part e che vuoi fare una virtù della triade e completarla tra un quarto d'ora quando la partita è finita no 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 sto dicendo ma intimizza almeno per un ex drinker eh sì sono d'accordo rivediamo l'azione sulla corsia superiore Carsti dal fianco il disperdi il debole connette su Colamax l'arfione da parte di Lavrov nessuna speranza e qui il danno su Tasteless è veramente disgustoso Carsti è davvero troppo avanti con questa Syndra Donalds si salva col flash difensivo White Knight le guarigioni e ancora una volta Syndra riesce a scatenare il suo potere senza limiti su Zoyer povero Zoyer mamma mamma si vede una spada dal cielo arrivare e distruggerlo come poche cose al mondo 4-0-4 Syndra doppia penetrazione vero della Banshee per poter stare anche sicura contro il danno magico elevatissimo della composizione degli Asus Lavrov rimuove lumi con la lama crepuscolare di Draktar quindi comunque rimozione istantanea dei lumi avversari Donalds piazza visione aggressiva i big sono in controllo di questa partita su ogni singolo fronte 10.600 10.400 a seconda della posizione delle ondate sono le unità d'oro che separano le due squadre ma soprattutto sono 5 le torri che separano le due squadre già questo diventa sempre più difficile a gestire per gli Asus che non hanno molto wave clear escludendo la presenza di tutta la combo di Corki o una full combo di Gragas certo non hanno ancora la mano del barone Nashori big ma è qualcosa sulla quale possono puntare facilmente grazie al drago della montagna non avranno DPS ma poco importa possono minacciare il barone e semplicemente girarsi sugli avversari in caso qualcuno provi ad affacciarsi possono assediare sì Syndra ti rende troppo facile l'assedio anche perché basta pensare che le uniche abilità con un range maggiore del disperdi il debole siano il livellatore missilistico forse la suprema di Corki ma non penso neanche penso siano 1300 unità non 1400 poi ci faremo confermare tutto dalla regia per sicurezza Zazi che va a pescecare la banca infatti ingaggiano subito su Donards calcia il dragone su tre persone arriva subito il dash difensivo si salva per un soffio esecuzione perfetta da parte di Labro che subito decide di ringgiare su Tasteless sarà Zazi a completare la kill Caterina Infernale che non va a segno su Goshugin Zoyer nel frattempo fugge sotto la struttura Zazi si lancia in avanti subito di torsione difensiva trova lo stun su Indra trova l'Olin grazie a White Knight che knock up all'avversario Zoyer subisce invece adesso i danni a parte di White Knight Arrappione che va a segno mai condannato a morte il Totoplaner ma in somma gli stun arrivano la distorsione finale arriva e questo è un altro ace nelle tasche dei big Lee Sin nel frattempo sta farmando la sua giungla comodamente il suo l'ha fatto Lee Sin ha tirato un calcio ha preso le risorse si è salvato ha preso un sacco di cooldown scherzi a parte i big stanno devastando gli Asus per gli Asus questo non è solo andarsene in caso di sconfitta ma è andarsene con dolore è comunque confermato effettivamente trattarsi di 1225 unità la Suprema di Corki e guarda qui guarda qui Donards dal fianco arriva Sasi una quantità di danni ad area disgustosa Donards sulla prima uccisione inoltre riesce anche a trovare il trionfo e quindi si salva effettivamente White Knight che a questo punto può permettersi di flashare in avanti come se non ci fosse un domani sembrava essersi salvato inizialmente però dopo Labrov ha deciso che White Knight dovesse morire ma ne pagano Dazio i restanti membri degli Asus perché il potere senza limiti di Syndra viene scatenato sul povero Corki che ha scelto il set giusto di incantesimi dell'Evocatore per questa partita devo dire si è molto sensato a tema beh dai lui è quello meno a tema però a livello di score 1-2-0 si cioè ha confronto con 0-4-0 da parte di jungler sul porto cioè insomma quello è tirare dritto Donards nel frattempo va a pulire la giungla nemica insieme a Carsi ormai davvero poco da fare per questi Asus vediamo qua i Big semplicemente invadere la giungla avversaria e continuare a tenere sotto controllo la situazione nelle blanche in bot lane ad accompagnare l'ondata potrebbero minacciare i baroni e nascere i Big ma si rendono conto che devono avere tutti i membri lì presenti per poter minacciare un fight girandosi perché i Big non vogliono andare al barone per fare il barone i Big vogliono andare al barone per beatare gli Asus purtroppo rischi di fare entrambe le cose contemporaneamente ironicamente sì perché il vantaggio è tale sì vanno a sediare sulla corsia centrale Carsey come ti dicevo la sua Sindra può permettersi di zonare chiunque al momento la composizione è anche purtroppo poco adatta a contestare Sindra quella Sindra bot è stato davvero un pick intelligente sembra che Perks avesse ragione è davvero un auto win il fatto è che sei contro una di carry che è facilissimo ad esplodere il supporto ce ne sono pochi che possono tancarsi il danno di una Sindra tipo Tam Kench è riversare no l'avevi già rivelata la bottom lane te l'ho detto non è un errore di draft da parte degli Asus Drago Infernale conquistato White Knight adesso costretto a battere in ritirata con la sua Suprema attiva 360 HP di cura da un singolo autoattacco e poi ci chiediamo perché vorrebbero nel fare i sustain di Aatrox e nel frattempo Zoyer si è portato al di là del muro con il bulbo esplosivo non potendo più fare DPS Carsey continua a zonare gli avversari si mangia un colpo mistico in bot lane continuano a sediare gratuitamente infatti abbattono la struttura Zassi e Donars finalmente se ne rendono conto gli Asus Rogue Elite e vanno a fermarli però c'è la sedia in corsia centrale quindi Tessile è pronto all'ingaggio Donars che qua va a calciare va per l'Ulisus ma guardalo verso il muro arriva però Ezra che con un colpo mistico inserisce tutti i suoi danni sull'avversario arpione a vuoto di Ezra il Rumble intanto va a zonare Aatrox in top lane conquista la torre del limitore l'inimitore cadrebbe a breve ma tutti gli Asus Rogue Elite sono arrivati per tempo White Knight sta giocando un Aatrox intelligente mi piace l'impostazione con le fauci di Malmortius immediatamente dopo la mannaia oscura e quel martello da guerra di Caulfield Extra per raggiungere subito il 40% di riduzione ricarica quello è un Aatrox che può davvero ballare intorno agli avversari la velocità di movimento del distruttore di Mondi ancora in 9.17 non è gestibile non da parte della composizione degli Asus vanno a rimuovere le ondate di Minion accompagnate sotto la struttura in corsia centrale Goshojin mangia magia c'è finalmente da parte sua e abbiamo anche la scimitarra di Bilgewater ma a questo punto la domanda è punti davvero a late game o ti arrendi e vai per la lama del re in rovina e speri di recuperare adesso per poi rimetterti in carreggiata arrivato a questo punto è veramente difficile da dire Goshojin qua arpionato da parte di Labrov cerca di andare per il lockdown i danni di Syndra sono tantissimi costretto a flash difensivo perché Pyke si è lanciato in avanti e ha colpito un avversario purtroppo per lui perché l'ha condannato a morte questo per fortuna gli Asus possono ancora vincere scenari di 5 contro 2 e portano a casa la vita di Goshojin solo grazie a quell'importantissima mangiamagia di cui stavamo parlando non solo lo scudo è stato rimosso ma la resistenza magica gli ha permesso di avere vita salva un cino un cino a parte di Teslas cercano il lockdown su Donards arriva invece l'onda Sonic colpo di Zonante e Donalds torna attraverso il muro nonostante tutto Zazie trova il lockdown grazie alla doppia distorsione si lancia in avanti White Knight vorrebbe la vita di Colamax che basso in salute Carlsi nel frattempo ha trovato la kill dalla distanza Colamax ancora invita per un soffio nonostante due volte l'eco di Luden fosse così vicino all'ucciderlo e Colamax si salva ma quanto si può dire lo stesso della base degli Asus Zoyer sta cercando con le ultime particelle di mana di andare a pulire quei minion ma il teletrasporto arriva ed è da parte di Leblanc Zazie arriva sulla corsia inferiore tutti insieme i big vanno a conquistare l'inibitore ora si possono portare sulla corsia centrale per conquistare un'altra torre qualcuno deve difendere la top lane perché i minion stanno picchiando sull'inibitore senza che nessuno li stia fermando big qua vanno per la chiusura quasi dei tre inibitori se lo possono permettere i top lane gli inibitore ancora in difeso finalmente Thresh ci va Thresh c'è dovuto andare Thresh e rischia di cadere vai minion crediamo in voi no 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 purtroppo la suprema di Ezreal va a negare ogni possibilità di conquista dell'inibitore in corsia superiore ma cosa importa perché comunque hai smantellato quello in corsia inferiore che era il più importante nell'ottica di setup sul barone Nashor Labroff va a rimuovere visione va a piazzarne in profondità lama crepuscolare di Draktar oggetto paradossalmente utile sui supporti conferendo praticamente una lente dell'oracolo extra e l'idea che una lama crepuscolare di Draktar sia ormai diventata nel meta di questo U Master un oggetto interessante per i supporti non solo Pyke ma anche Pantheon adesso beh sì perché vabbè sono due campioni che possono sfruttarlo e abbiamo visti un bel povero sia di Pyke che di Pantheon eh beh giustamente è divertentissimo è il modo in cui dovrebbe evolversi il gioco qua Zazie va a trovare Lockdown to Tasteless bello il danno si fa sentire non poco quasi un'uccisione dalla sua ma non abbastanza il danno di Leblanc per quanto sia alto non è ancora sufficiente se non trova un corretto proc della sua Q Zazie va a bloccare Zoyer subito distorsione difensiva e Valkyrie difensiva e Barone Nashor per il Barone Nashor i big si rendono conto del vantaggio ottenuto fino ad ora devono soltanto trovare il danno grazie a Atrox più che altro la corsia inferiore stava pushando dalla distanza la Suprema di Ezreal aiuta semplicemente la conquista del Barone muore Gragas nel frattempo e muore Leblanc però è un 1x1 grazie ai controlli degli Asus Rock Elite trovano shutdown ai danni di Leblanc penso che adesso i big punteranno comunque la corsia centrale la loro superiorità numerica per quanto sia nemmeno una superiorità numerica perché pareggio che cosa sto dicendo perdonatemi superiorità in risorse in questo caso è troppo massiccia oh mio dio quello è un vantaggio di 14.100 unità già White Knight adesso sulla top lane vuole prendere l'inibitore a tutti i costi Tasteless uncino a vuoto Karsy occhio a Karsy da fianco poteva trovare lo stun non va a segno purtroppo Onda Sonica invece colpisce l'inibitore lentamente colpito Paik ha accompagnato l'ondata Karsy non trova lo stun ai danni Goshugin ma la doppia pui invece va a segno questo costringe Goshugin a giocare un attimo più sicuro un ultimo attacco sull'inibitore e qualcuno lo tiri maledizione è riuscito a mettere a segno la conquista dell'inibitore bassa denudata degli Asus con Syndra che riesce a mettere giù quei danni contro un Ezreal dotato di resistenza magica solo con la forza di volontà adesso ci sono da pulire ondate di doppi super minion e per quanto ancora per poco considerando che gli inibitori in corsia centrale ed inferiore stanno per respawnare però a prescindere gli Asus adesso hanno una bruttissima gatta da pelare il doversi chiudere al reach all'interno della propria base impedirà con il gioco sulla mappa e Donald's addirittura è lì all'interno della base avversaria a pushare le ondate giustamente l'unico modo per continuare a mantenere la pressione alta è eliminare subito i minion prima ancora che incontrino i tuoi doppi super minion su tutte le corsie Aatrox ha già accompagnato la prima ondata arriva Paik in corsia superiore nel frattempo Trittico in corsia centrale questa potrebbe essere la fine arriva la super minion nel tentativo di Goe Clear Zoi dotato ancora di Paco che andrà a utilizzare in senso difensivo per pulire le ondate in caso ci sia la possibilità e la necessità di investire questa risorsa Zoi perde mezza vita per Mario Ricarsi costretto a battere in ritirata questo porterà i minion più vicino alla struttura livellatore missilistico che viene utilizzato per i Goe Clear il danno però non si fa sentire a causa della mano del Barone Nashor prima torre del Nexus che cade White Knight prende tempo per quanto possibile Zoi utilizza il pacco difensivo i minion completano le due torri del Nexus nel frattempo Syndra e Paik eliminano il primo Don Archer trova il calcio su più persone Zoi per quanto risponda con un ottimo DPS non è sufficiente i big si portano sul 3 a 3 e gli Asus Rogue Knight sono fuori dai giochi ladies and gentlemen sulla tripla uccisione che i big portano a casa la vittoria per se stessi e per i Rogue eSports Club che vanno così a soppiantare le speranze degli Asus bravissimi bravi 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 mamma mia riuscire a giocare una composizione di questo tipo con un'esecuzione così pulita SyndraBot è disgustosa SyndraBot attualmente ha un potere di trade che va a surclassare quello di qualsiasi tiratore e abbiamo visto quanto di impatto riesca ad essere mamma mia davvero complimentoni che dire signore e signori siamo arrivati a quella che è la conclusione canonica della fase delle partite di andata il girone regolare dei play-in la fase di round robin è finito questo che cosa significa significa che da subito possiamo fare i complimenti agli Excel UK per due motivi intanto per aver portato a casa un 6-0 e di conseguenza il play-in perfetto il secondo per essersi assicurati il primo posto e di conseguenza il passaggio automatico alla fase successiva e vedremo nella giornata di domani gli scontri diretti tra quelli che sono i team dal secondo al quinto posto di conseguenza abbiamo i Vitality B gli Origin Barcelona i Big e abbiamo come ultimi qualificati non so se per fortuna ma anche per merito dei big stessi i Rogue eSports Club si affronteranno questi quattro team e i due vincitori dei due scontri diretti avanzeranno e si affiancheranno agli Excel UK a breve avremo una grafica della classifica che ci permetterà di farvi vedere come effettivamente si dispongono i singoli team nonostante tu li abbia già elencati tutti quanti serve proprio posso disegnarli sulla telecamera se vuoi no diciamo che famo che no è Grazie a tutti.